Giuseppe Parini nasce in Brianza, a Bosisio. La manina indica il luogo dove è nato Parini, poco lontano da Milano. Milano era, nel 1729, già dominio austriaco e fino al 1748, anno della pace di Aquisgrana, questa zona fu teatro di due lunghe guerre, quella di successione polacca e quella di successione austriaca, ma dal 1748 seguiranno 50 anni di pace. Parini nasce nel 1729 e si trasferisce, all'età di 9 anni, a Milano per studiare presso i padri Barnabiti e concluderà i suoi studi nel 1752. Intanto si dedica anche alla poesia con lo pseudonimo di Ripano Eupilino. Lo pseudonimo di Ripano Eupilino, questo soprannome dal latino Eupilissi, che è il nome del lago Pusiano, appunto quello su cui si affaccia il paesino di Bosisio. Grazie a questa prima opera poetica, questa raccolta di poesie, entra nell'Accademia dei Trasformati a Milano. Un'Accademia fondata già nel Cinquecento e rifondata nel 1743 dal conte Giuseppe Maria Imbonati. Parteciperà all'incontro dell'Accademia dei Trasformati, un'associazione culturale di stampo illuministico che proponeva a difendere la tradizione classica contro gli eccessi della poetica arcadica. Nel 1754 fu ordinato sacerdote. La decisione di farsi prete fu determinata dalla necessità di fruire di un modesto vitalizio lasciato da un'approzia a patto che si facesse prete. Cioè non fu prete per vocazione, ma per necessità economica. E da prete fu assunto in casa Serbelloni e vi rimase per otto anni, venendo quindi a diretto contatto con la vita aristocratica milanese ed ebbe ottimi rapporti di amicizia con la duchessa Maria Vittoria Ottoboni Boncompagni in Serbelloni. Faceva il precettore quindi, cioè educava i figli della nobile donna della duchessa. La frequentazione della casa Serbelloni come precettore si ruppe nel 1762. Questo idilio letterario possiamo dire perché in questo periodo Parini poteva godere di anni di tranquillità nel proprio lavoro. Questo idilio si ruppe nel 1762 con un episodio che tragicamente contrappose la duchessa con il poeta. Durante il soggiorno estivo nella villa che i Serbelloni possedevano a Gorgonzola, la figlia del compositore di famiglia Giovanni Battista Sanmartini, giunto in loco a seguito della famiglia ducale, fece di tutto per accelerare il ritorno a Milano, giungendo persino ad alzare la voce in presenza della duchessa. Maria Vittoria reagì dandole un violento schiaffo e Parini, saputa la notizia, Parini che era amico di San Martini, si offrì personalmente di accompagnare a Milano la figlia di San Martini, scontrandosi quindi apertamente con la duchessa. Questa fu l'occasione per cui si ruppe l'intesa tra duchessa e il poeta e il poeta si stabilì definitivamente a Milano. Probabilmente da questo ambiente aristocratico Parini prende tanti episodi e confluiscono nella sua composizione di carattere satirica chiamata Il Giorno. Quindi dal 1764 già a Milano incomincia a frequentare l'ambiente mianese, lui è precettore a Milano in casa Imbonati, educa il figlio che si chiama Carlo Imbonati, futuro marito di Giulia Bergaria, madre di Manzoni, sarà professore di eloquenza e di belle lettere nella scuola Palatina di Milano e poi nella scuola di Brera, entrando in contatto con l'ambiente artistico milanese dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. Fu un periodo anche felice di promesse, riforme, ottimismo illuminista grazie alla presenza dell'illuminata Maria Teresa d'Austria che governava la Lombardia anche con l'aiuto degli intellettuali milanesi. Ma quando muore Maria Teresa d'Austria, succede Giuseppe II, viene soppressa l'autonomia di cui goleva la Lombardia e viene rotto il legame con il mondo intellettuale milanese. La morte del poeta avviene nel 1799, precedentemente nel 1796 entrarono i francesi, fu offerta un ruolo anche nella municipalità della città, un ruolo politico insieme ai fratelli veri. Parini accettò, ma la partecipazione alla vita politica fu essa limitata nel 99, anno in cui tornano gli austrieci a Milano, Parini muore. Qual è l'ambiente milanese in cui vive Parini? Quindi è un ambiente formato da intellettuali che esprimono la necessità di far coniugare teoria e prassi, cultura e riforme politiche. E' un tipico ambiente illuminista. Questi intellettuali hanno la necessità di rispondere anche alle esigenze di governo, quindi non solo scrivono, ma anche svolgono ruoli politici, grazie appunto al governo illuminato di Maria Teresa. In quattro direzioni la cultura illuminista a Milano si svolge. In campo economico-politico, delle meditazioni sull'economia politica, fatte da Verri per esempio, in cui viene l'analisi economica che è connessa all'analisi dei fenomeni sociali. In campo etico-politico, al cui centro della speculazione c'è il problema della felicità, cioè il diritto umano di godimento, che coincide col piacere, la convinzione che la migliore società debba estendere il diritto di piacere a tutte le sue componenti sociali. Poi il problema giuridico-istituzionale, con un nome importante, quello di Beccaria, il quale fa delle riflessioni contro la disumanità delle leggi. E poi il problema letterario viene affrontato, con la riflessione dell'utilità dell'opera letteraria, che non deve solamente portare piacere, non ha solamente una dimensione donistica, ma anche deve svolgere una funzione utile socialmente. Il riferimento a Cesare Beccheria, che scrisse dei delitti e delle pene nel 1664, un testo conosciuto in tutta Europa sulla necessità dell'abolizione della pena di morte. Quindi l'euminismo a Milano, due associazioni, chiamiamole accademie culturali, la prima quella dei trasformati, fondata, come dicevo prima, nel 1546, ma risorta nel 1743 per opera del conte Giuseppe Maria Imbonati e fu attiva fino alla sua morte nel 68. Si proponeva la difesa della tradizione classica in polemica con l'arcadia poetica, cioè in polemica con quella poesia che era fine a se stessa, pure donismo e gioco. E a questa accademia fece parte, attiva, Giuseppe Parini. E poi a Milano nasce anche l'Accademia dei Pugni, da parte dei fondatori Alessandro e Pietro Verri, un'associazione che promuoveva una battaglia politica e culturale per riformare la società lombarda. E il suo organo di divulgazione delle idee era la rivista Il caffè. Del 1761 è il discorso sulla poesia. Parini afferma che la funzione della poesia non si arresta alla produzione di affetti, piacere o dolore, ma è anche veicolo di idee, situazioni, concetti che servono a migliorare la civiltà umana, allontanando gli uomini a ciò che è turpe ed al vizio. Potremmo dividerle almeno in due categorie. Ci sono quelle opere di carattere satirico. Per satire intendiamo un genere letterario che mette in ridicolo i costumi sociali, con espressioni che vanno dall'eronomia pacata, allo schermo, fino all'invettiva e al sarcasmo. E poi opere di denuncia civile con un tono più realistico. Entrambe atteggiamenti poetici di Parini riflettono quindi un voler essere impegnato per criticare la società con un taglio prettamente illuminista e lombardo. Quindi l'autore conosce almeno queste due maniere. Da un lato lo stile caustico, dall'altro un'intonazione sdegnata, un tono realistico, impegno civile. Quindi parliamo del genere satirico e in particolare quindi della sua opera considerata maggiore Il giorno, così intitolata. Poemetto, tripartito, in endecasilla di sciolti, composto in tre parti, il mattino, il mezzogiorno e poi una terza parte, la sera mai pubblicata, la quale a sua volta era scomposta in vespro e nella notte. In quest'opera il poeta si presenta come il precettore esperto in costumi e abitudini mondane di un giovine signore, cioè un giovane nobile. Il poeta si presenta come precettore da amabile rito, ovvero un insegnante, precettore, educatore, esperto in costumi e abitudini mondane. Sotto questa finzione il poeta incomincia a descrivere le occupazioni del giorno del giovane signore, cioè ciò che fa il giovane signore durante la giornata. Il tono satirico è talvolta sarcastico e denuncia l'immoralità, il parassitismo della classe nobile, contrapposta al resto della società che lavora tutto il giorno per mantenere il vizio e lo spreco dei nobili. Al centro delle denunce satiriche c'è il giovane signore appunto, ma anche un'usanza, quello dei cicisbei, cioè l'usanza del giovane signore di fare da cavaliere servente a una dama già sposata. La dama, che secondo l'usanza del cavaliere servente, chiamato anche cicisbeo, viene accompagnata dal giovane signore di giorni, essendone amante di giorni, e la sera ritorna a casa come moglie del marito. Il giovane signore è accompagnatore e goditore della bella moglie di un altro, il quale altro, marito indifferente, tollera questa usanza come parte integrante del costume nobiliare. La dama viene quindi chiamata in molte espressioni, tra cui l'altrui cara consorte, l'altrui fida sposa, la pudica, l'altrui sposa te cara, l'amante istituzionalizzato. Cicisbeo è dell'amante istituzionalizzato della dama, la quale quando esce si fa accompagnare, non dal marito, ma dal giovane signore. E poi le odi a poesie, dal tono non satirico, ma più realistico e di intonazione civile e impegnata. Opere composte tra il 57 e il 70 usano diverse strutture metriche, tra cui soprattutto i settenari, in cui spiccano versi sdruccioli e tronchi, hanno tematiche prettamente civili ed immunistiche, come per esempio la vita rustica, che parla dei vantaggi e la vita di campagna contro i miasmi, gli odori, l'inquinamento della città. L'innesso del vaiolo, in cui parla del progresso della medicina, che guarisce e salva da malattie mortali. Il bisogno, in cui il poeta parla contro la disumanità delle leggi. E ancora un'altra ode sull'educazione, invitando alla formazione dei ragazzi, dei giovani, in maniera armonica, contemperando la passione e la ragione, riuscendo ad armonizzare gli aspetti più istintivi, passionali, con quelli più razionali. In quest'opera si dilunga nell'immagine di Achille, che viene educato dal centauro Chirone.